Mettiamoci anche il valore del nostro avversario che probabilmente negli individui come tasso tecnico d'esperienza ancora è superiore a questo Gualdo dal punto di vista dell'esperienza soprattutto. Sono giocatori più abituati a giocare per un certo tipo di classifica. Noi ci stiamo studiando per farlo e anche da queste sconfitte, da partite come questa, si impara e dobbiamo imparare. Per cui ovviamente non facciamo drammi. È vero, il Bastet è partito molto meglio di noi, è vero, sicuramente ci ha messo in difficoltà, però io ho visto un grossissimo secondo tempo del Gualdo e credo che alla fine probabilmente il pareggio era il risultato più giusto. È stato deciso da un episodio un po' sfortunato per noi, però quello che mi è piaciuto e mi piace sottolineare è che la squadra sotto di un gol ha pareggiato subito con una reazione vemente, sotto di nuovo sul 2-1 e io avevo la sensazione che la potevamo pareggiare da un momento all'altro. Questo vuol dire che la mia squadra ormai dà delle garanzie importanti anche da questo punto di vista. Ecco, adesso il Gualdo dovrebbe essere tagliato fuori dalla lotta play-off perché i punti cominciano ad essere parecchi distanti dalla zona per la promozione, mentre Maria Solvese è praticamente in tasca visto o no anche i risultati di quest'oggi. Queste tre partite che mancano, con quali obiettivi, con quali motivazioni andrai a lavorare sui ragazzi? Guarda, in realtà non siamo né matematicamente né fuori dal discorso salvezza, matematicamente parlo, né fuori dal discorso play-off. Per cui noi abbiamo il dovere di puntare a fare nove punti, di fare comunque più punti possibili. E' ovvio che per cercare di aspirare a una classifica eccezionale dobbiamo puntare a fare nove punti e poi fare i miei conti. Ma ti ripeto, la cosa più importante per me è vedere come la squadra, negli individui e come collettivo, va a costruire la propria mentalità. Queste tre partite devono essere interpretate per cercare di giocare a alzare la nostra classifica. Se non facciamo questo rischiamo di, non dico di buttare via il campionato o la stagione dal punto di vista sportivo, perché ripeto, noi abbiamo fatto comunque, credo, almeno penso che mi si possa riconoscere, uno splendido campionato. Ma se non sfruttiamo queste tre partite per continuare a crescere, evidentemente vuol dire che non vogliamo migliorare e quindi magari nei prossimi anni, se il progetto continuerà ad andare avanti con la società, non rischieremo di raccogliere tutto quello che stiamo seminando. Queste partite devono essere assolutamente importanti per costruire mentalità. Chi ovviamente non si allinerà a questo pensiero, è chiaro che poi a fine stagione si faranno delle scelte, si valuterà, perché nel progetto del Gualdo c'è la maturazione dei giovani, c'è la salvezza, il mantenimento di categoria, ma c'è anche nel lungo periodo l'idea di costruire una squadra con tutti questi buonissimi giovani che abbiamo, vincente nel futuro. È proprio il segno del destino, nel senso che comunque questa squadra mi ha portato benissimo quando ero giocatore e mi sta portando bene anche adesso da allenatore e quando sono venuto ad avversario. Però a prescindere da questo io dico una cosa, che il Gualdo sta facendo un grandissimo campionato, secondo me ha raggiunto il suo obiettivo con quattro giornate in anticipo e quindi devo fare i complimenti a Roberto, Balducci, a tutta la squadra, a tutta la società per come sta lavorando e per quello che riuscite a fare in questo campionato. Poi per quanto mi riguarda, noi adesso siamo in piena lotta play-off, come l'eravamo prima di questa partita. Questo è un risultato molto importante per noi, anche perché le altre squadre hanno vinto tutte, e quindi più o meno la classifica è rimasta invariata. Ci giochiamo le ultime tre partite, c'è possibilità di fare play-off e noi lutteremo per fare play-off. Ecco, venendo alla partita, un primo tempo ovviamente da parte della tua squadra, ha creato diverse occasioni da gol, ripresa tutto sommato più equilibrata, a livello di occasioni parliamo sempre. Un Bastia comunque che è sembrato arrivare qui sapendo quello che vuole, il guardo non ti riguarda particolarmente, può lamentarsi del fatto di avere alcuni giocatori fuori sia per squalifica, per malattia e anche per l'incidente grave di sabato sera che poi ha condizionato, abbiamo visto anche le prestazioni di alcuni dei suoi giocatori oggi in campo. Questo sicuramente mi dispiace, soprattutto per i ragazzi che sono stati convolti nell'incidente a cui chiaramente auguro la più pronta guarigione, insomma. Però a prescindere da questo credo che l'analisi sia corretta. Noi avevamo in mente di fare una partita aggressiva dai primi minuti e credo che nel primo tempo ci siamo riusciti. L'unica cosa che ci è mancata un po' nel primo tempo è stata la cattiveria di voler far gol, quello che ho detto alla squadra all'intervallo. Per il resto credo che abbiamo fatto, per me e per quanto mi riguarda, una delle migliori partite dei primi 45 minuti e quando spendi molto, come abbiamo speso noi nei primi 45 minuti, se non trovi il gol, poi rischio di fare fatica nel secondo tempo. Il secondo tempo infatti è stata una partita più aperta, più equilibrata, con occasioni, con capovolgimenti di fronte, di continuo e soprattutto anche a grande ritmo, secondo me. Quindi credo che alla fine sia stata una bella partita, ma credo, come ho detto in precedenza, se devo analizzare la partita nei 90 minuti, credo che il Bastia ha meritato questa vittoria e la differenza forse oggi l'ha fatta anche da voglia, soprattutto la mia squadra, di vincere. Ecco, un clima che ha cambiato a Bastia perché c'è stato un periodo in cui è rifinito un po' sulla graticola da parte della tifoseria, ora invece diciamo che ancora una volta sta dimostrando che le tue squadre possono raggiungere, ancora non l'hai raggiunto, però insomma sono in lotta per ottenere quello che voglio. Ma guarda, se guardiamo la classifica di un mese e mezzo fa, due mesi fa, noi eravamo un punto nel play-out e quindi all'occhio di tutti era un campionato fallimentare perché noi chiaramente avevamo l'intenzione sin dall'inizio di poter lottare per il play-off insieme a quelle 6 e 7 squadre che all'inizio erano, diciamo, le candidate per la lotta nel play-off. Poi, come avviene spesso nei campionati, ci sono anche delle sorprese perché non c'era Umbra, secondo me è stata una sorpresa. Nel nestor del girone d'andata ha fatto un girone d'andata strepitoso dove ha perso soltanto una partita e noi abbiamo fatto fatica, obiettivamente tanta tanta fatica. Quindi diciamo che la contestazione da parte dei tifosi nei confronti dell'allenatore penso che sia normale, succede in tutte le categorie. Diciamo che poi la differenza l'ha fatta la mia voglia di non mollare, no? Il giocatore forse qualche volta sono partito dalla panchina, però non ho mai mollato. Vado avanti per la mia strada, con coerenza, con equilibrio. La squadra mi ha seguito, la sua età è stata una sua età esemplare da questo punto di vista, mi ha sempre sostenuto, come è sostenuto la squadra. Poi pian piano, in qualche partita, che è un pizzico di fortuna, ci siamo tirati fuori dai guai e adesso possiamo dare una svolta al campionato e ribaltare completamente l'opinione di tante persone. Ecco, l'ultima battuta. Conta più in queste fasi chi ha tirato la carretta per tanto tempo, cioè chi è partito forte o chi arriva in rimonta? Un po' come il Bastia, come il Guardo, che da quest'oggi purtroppo dobbiamo considerarlo un po' fuori dai giochi. Insomma, cosa è meglio? Partire forte o arrivare di rimessa? Ma non lo so, delle volte è difficile fare questo tipo di valutazioni. Secondo me l'importante è avere la mente sgombra, la mente libera, la voglia di giocare e l'entusiasmo. Noi in questo momento abbiamo l'uno e l'altro e quindi credo che se continuiamo su questa strada possiamo farcela, anche se il nostro calendario non è dei più semplici. Però credo che in questo momento la cosa più importante è che la squadra lotta per il play-off.